Un disastro annunciato, un giorno di speranza per tanti disoccupati e inoccupati trasformatosi in una mara commedia all'italiana. Erano previste questa mattina ad Andria prima che venissero clamorosamente annullate le prove selettive aperte a 1500 candidati per individuare 20 addetti alla gestione del servizio di parcheggio a pagamento. L'appuntamento per il primo turno di candidati è alle ore nuove presso l'hotel Ottagono. È solo un centure, ma che ci sia qualcosa che non vada e chiaro sin dalle modalità di convocazione, perché c'è chi è stato contattato con una mail, chi telefonicamente, ma ci sono anche candidati e sono numerosi che pur essendo risultati idonei allo svolgimento della prova non hanno ricevuto alcun tipo di avviso dalla società organizzatrice della selezione. Semplicemente si sono presentati all'hotel Ottagono per aver letto sui giornali o sui siti telematici che oggi si sarebbe svolto il loro test. Ma la contestazione feroce è nata poco prima dell'inizio ufficiale della prova, quando è venuto fuori che al momento della registrazione al candidato veniva consegnato anche il test da svolgere durante i 20 minuti previsti dal regolamento del bando. In pratica, ancora prima che si desse avvio all'inizio ufficiale della prova, i candidati già registratisi, pur diffidati dal farlo, avevano la possibilità di prendere visione dei test e magari segnare le prime risposte senza dare troppo nell'occhio. Ne è scaturita una bagarre senza precedenti, tra urla e contestazioni che altro non potevano portare che all'inevitabile annullamento della prova, sulla quale, dicono i candidati, l'elenco delle perplessità è veramente molto lungo. Siamo stati accolti, logicamente, con tanto garbo anche dal personale della Randstad, ci hanno chiesto la documentazione, il documento di riconoscimento, siamo saliti qui su in questa aula dove abbiamo esibito il documento, ci hanno addirittura rilasciato una cartellina dove all'interno c'erano i test. E qui è nato tutto l'inghippo in pratica. Perché questi test, in pratica, alcuni che si sono accomodati presso le sedi hanno iniziato, logicamente, perché la curiosità è femmina, a sfogliarli e ad interessarsi un pochino dalle domande, prima dell'input che doveva essere dato dal personale addetto. A questo punto, logicamente, la gente che stava fuori si è iniziata un pochino a ribellare e noi tutti qui, in effetti, ci siamo ribellati per denunciare l'accaduto. Prove da rifare, quindi, possibilmente, chiedono i candidati con un'organizzazione degna di questo nome, senza la possibilità di dare adito a sospetti e contestazioni. La consegna, logicamente, del test in una busta sigillata, con un codice addirittura identificativo, anche un codice a barre, e su tutti i fogli, perché il test che ci hanno dato era solamente segnato manualmente sulla prima pagina, come diceva l'amico qua, siglato solamente a mano. Il resto dei fogli erano tutti in pratica non siglati e quindi c'era la possibilità, penso, di scambiarli. Grazie. 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 Grazie.